ben tornati in un nuovo video bentornati sul canale bentornati a tutti quanti bene ieri avete visto i nostri acquisti compere a dolentos e regali e oggi vi faremo vedere cosa vi facciamo vedere oggi niente come si sta seduti su una sedia si sta seduti su una sedia con il sedere con la faccia ci sta seduta come ti permetti ma guardate cosa fai con la mia barba in mano no questa è mia non è vero che bugiarda questa è mia questa è mia questa è mia tutta sua quella sotto sono mia è tutto mio perché lei è tutto suo si fa tutto suo io non so perché la vita è tutta sua è mia la vita hai capito è tutta sua la vita è mia la vita non ci credo no poi ti prendono in giro la voglio vedere non ti fa con le teste stacco io se ciao ma si proviamo ma abbiamo spiegato cosa dovevo fare questo video dammi la testa dammi la testa perché io ho bisogno di teste tammi la testa se non ci vede nulla dai che simona ce la farà Ci ho messo più meno tempo di te Questa rossa Dai che si vedono le patate dietro Per favore Si vedono le patate Patate per tutto Allora questa è la mia prima volta che ho stacato la testa E ci ho messo meno tempo di mamma Perché è un corpo che anche se la testa si rompe Fa nulla Adesso ti voglio sugli altri In un prossimo video Va bene Lo farà sempre Lei Lo farà sempre Lei Cosa guardi? Lei è il corpo L'abbiamo preso per Teresa Prima edizione Prima edizione Ma se me ne dici che è Barbie Prima edizione Sì sì Questa è Barbie Teresa prima edizione Sì ma forse è Teresa quella con i capelli Rossi Che è molto chiara Però sembra molto più chiara Però sembra molto più barra Sembra diciamo No La Teresa con i capelli rossi Vabbè ma vado a vedere quello che hai fatto Non lo so Quello che ho fatto Scusa guardi Mi guardi Vado a vedere Posso Non potevi lasciare Un pezzo di perno Per te Rimaneva almeno Che è successo Cosa c'è? Potremmo notare La faccia di mamma Perplessa sulla colorazione della faccia Che non combacia perfettamente con la colorazione delle mani Notiamo la faccia molto preoccupata Molto misteriosa della mamma Che guarda intensamente E molto Guarda Guarda molto intensamente Guarda intensamente La Barbie Vabbè C'entra la farina su un po' Che a me Anche se è diversa Non ha ancora capito Che non me ne frega Niente Ma niente E io invece non ho ancora capito Perché la nuca di questa Barbie è scura Perché Alla ricrescita Secondo me Lei si è fatta la tinta ma c'è la ricrescita Ah per quello? Secondo me sì Però potevi lasciare il perno Perché lei era un po' Mula 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 Ma perché è stata sul corpo Curvi Facciamo acqua calda Perfetto Ma adesso Questa cosa può rimanere così Pi 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 No Bene Da Curvi è diventata Mert Un nuovo combo di Simona Un nuovo combo di Simona Infatti Mio 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 Io dovrò ancora aspettare Ah sì? Sei invidiosa Sì 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 Sei invidiosa Meno male che aveva detto che questo corpo me lo dava a me Io? Quanto l'ho detto? Se prendevo l'altra Lei Se prendevo lei Se prendevi lei Non l'hai presa L'ho presa io Non l'ho presa una Sì ho capito Ma l'ho presa io Lei quindi E io tra cose Non cadere Non cadere Bene amici Bene amici Dunque Dunque Spero che vi sia piaciuto il nuovo combo Eh sì Falla vedere bene Il nuovo combo Se vi è piaciuto Mettete un like Come sempre Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto Vi mando a casa Questo corpo senza testa No no A picchiarvi Eh sì come fa a picchiare? Con le mani Così Aia Facciamo le prove no? Se non ti sei ancora iscritto Vedi cosa ti guarda Iscrivetevi Guarda se non ti sei ancora iscritto tu al canale Cosa succede? Commentate Così succede? Aia Romano Aia Mi bullizza No non è vero Mi bullizza Non è vero Mi bullizza Bene mettete like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per ricevere il notifico del nostro video Il notifico E niente ci vediamo il prossimo video no? Cosa stiamo qua a fare? E cosa stiamo qua a fare? Come non hai fatto niente? Bene ci saranno anche le prossime puntate Guarda che figlia che hai Guarda che figlia che hai Amore di qualcosa figlia tua Ma buona Ma buona Ci sono i occhiali Ci sono i occhiali Ci sono i occhiali Ma te ti si staccano i capelli I pomodori Volete un pomodoro? Bene Mangiare brioche? Cosa fai? Mangi le brioche? Pensavo che mi muovi un soccolatino Bene amici Con questo video è tutto Passo e chiudo E passiamo a un altro video Uguale identico Perché chi è un altro combo? C'è un altro combo E di chi è questo combo? Sempre tuo Io Cioè State là Non vi muovete No è vero Che voi lo vedete il giorno dopo Quindi mica li carico tutti insieme No no Aspettate Aspettate Dovete vedere No aspettate là Piena domani Aspettate il nostro video Invece se attivate la campanella Non c'è bisogno di aspettare là Ciao ragazzi Perché vi arriva la notifica Eh sì Condividete tutti i nostri Arriva il prete con la campana Che suona le campane Ding dong dong E ciao È arrivato il video È arrivato il video È arrivato il video Andate su YouTube Mi busta la porta a prete E col campanello ding ding No ma così C'è qualcuno No non ce ne sono È arrivato il video Ma cosa mi urli E vedi che Sera detto anche papà Bene Ciao amici Ciao ragazzi Stoppa Stoppa Consedere Elle motherfucker Sera Strive il GPS bah es Grazie.